Buongiorno a tutti. Allora, io scherzosamente nel video precedente vi ho detto che nelle news, nelle cool news, scusate, c'è di tutto di più, non è che c'è solo la cronaca di quello che è successo magari sei, otto mesi fa, ma anche questioni storiche, questioni archeologiche, questioni zoologiche, eccetera, 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 e anche curiosità molto particolari, come la terza notizia. Infatti partiremo con, già qua a me viene da ridere, quando leggo il pesce lumaca a me viene da ridere, parleremo di un pesce lumaca molto particolare, l'ho scoperto in un posto molto molto freddo. Poi proseguiremo con un'altra notizuola, sì 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 sì, è giusto, è giusto perché mi era venuto il dubbio. La seconda notizuale invece è i vichinghi, i vichinghi, che sono personaggi di cui abbiamo parlato molto molto spesso, perché stavo vedendo se avevo messo tutto giusto, eccetera, eccetera, perché avevo già fatto il video e poi purtroppo è finito il timer, non perché, perché il volpone, no, ho detto tanto basta, invece non è bastato, avevo sforato, quindi dobbiamo rifare il video, non è un problema. Quindi la seconda notizia, primo pesce lumaca, il secondo riguarda i vichinghi, il terzo riguarda due fidanzatini mascoli, due mascoli, due, un attore, hanno fatto, uno dei due ha fatto coming out, ma erano già, si sapeva già, era il segreto di Pulcinella, quindi, però, hanno deciso di venire anche allo scoperto e poi parleremo della di Tutankamon, ed è lo scopritore, il primo scopritore della tomba che ha fatto il Lupin, ha fatto il Lupin, e qua ci sono le prove, ma ormai non c'è più questa persona da ancora prima che iniziasse la seconda guerra mondiale, quindi quando ben l'hai scoperto ormai, cosa fai, lo condanni? Vabbè, partiamo subito con il pesce lumaca. I ricercatori hanno scoperto un pesce lumaca con i più alti lambelli di proteine antigelo mai riportati, e questo potrebbe essere utile per fare migliorare il paraflu. Sto scherzando. Un team di ricercatori dell'American Museum of Natural History di New York ha individuato, durante una spedizione in Goellandia, un pesce lumaca dalle caratteristiche straordinarie. Il pesce lumaca è stato individuato in una fessura di un iceberg e misura appena 18 mm di lunghezza, quindi un centimetro e otto. Un robino così. Si tratta, insieme allo squalo della Groellandia, che ne avevamo già parlato, ogni tanto gli piace anche andare in vacanza, perché l'hanno scoperto nei mari caldi del sud, nei mari del sud, hanno pescato uno squalo della Groellandia. Uno dice, cosa ci fai qua? Ero venuto in vacanza, avevo freddo là. Ogni 9-10 mesi vengo anch'io a farmi due mesi di mare caldo, ai tropici, eccetera. Comunque, si tratta, insieme allo squalo della Groellandia, di uno dei pochi esseri viventi capace di vivere in ambienti così freddi. Con un nuovo studio sul DNA del pesce lumaca, gli esperti hanno capito come riesce a sopravvivere in acque così gelide. Il trucco sta nei geni codificati per le proteine antigelo, proteine che si legano all'acqua per limitare la formazione di ghiaccio. Le proteine antigelo si attaccano alla superficie dei cristalli di ghiaccio più piccoli e rallentano e impediscono loro di crescere in cristalli più grandi e più pericolosi, ha detto il coautore dello studio David Gruber, ricercatore associato presso l'American Museum of Natural History, AMNH, o AMNH, per dirla come lo spelling, e illustre professore di biologia presso il Baruch College della City University di New York. I pesci del polo nord e del polo sud hanno evoluto in modo indipendente queste proteine. Le proteine antigelo sono state scoperte per la prima volta in alcuni pesci antartici quasi 50 anni fa. A differenza di alcune specie di rettili e insetti a sangue freddo, i pesci non sono in grado di sopravvivere quando i loro fluidi corporei si congelano, il che può causare la formazione di granelli di ghiaccio all'interno delle loro cellule e trasformarli essenzialmente in ghiaccioli di pesce che non vi consiglio di mangiare perché non sono buoni. Non fatevi ingannare. Poi magari fanno anche il ghiacciolo al sapore di pesce perché ormai fanno i gelati a tutti i gusti quindi ci manca solo che fanno il ghiacciolo al sapore di pesce. Il fatto che queste diverse proteine antigelo si siano evolute indipendentemente in un certo numero di diversi e non strettamente correlati lignaggi di pesci mostra quanto siano fondamentali per la sopravvivenza di questi organismi in questi habitat estremi. Ha sentenziato John Sparks curatore del dipartimento di etiologia dell'AMNH o AMNH e coautore dello studio Il pesce lumaca produce proteine antigelo come qualsiasi altra proteina e poi le espelle nel loro flusso sanguigno ha detto Grube Tuttavia il pesce lumaca sembra produrre proteine antigelo nell'1% superiore di tutti gli altri geni dei pesci forse anche perché essendo piccolino la proporzione magari è diversa sapete la legge della pistola no? Meh meh la legge della pistola mettiamola così no? Ecco così così gli scienziati sono rimasti sbalorditi quando hanno scoperto il pesce lumaca era anche bioflorescente il pesce lumaca era una delle poche specie di pesci che vivevano tra gli iceberg nelle fessure era sorprendente che un pesce così piccolo potesse vivere in un ambiente così estremamente freddo senza congelamento è anche raro che i pesci artici mostrino bioflorescenza che è la capacità di convertire la luce blu in luce verde rossa o gialla poiché ci sono periodi prolungati di oscurità specialmente in inverno e specialmente ai poli normalmente queste caratteristiche si trovano nei pesci che nuotano in acque più calde bene 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 abbiamo parlato del pesce lumacone e dopo il pesce lumaca andiamo a parlare dei vichinghi con il materiale a disposizione i ricercatori americani hanno concentrato la loro attenzione su due elementi un lipide che permette di ricostruire la temperatura nel corso del tempo e il rivestimento ceroso che può essere sbagliato pagina sono andato dopo scusate chiedo bene ho fatto un po' di spoiler fa niente allora uno dei grandi misteri della storia del tardo medioevo riguarda il motivo per cui i vichinghi dal 985 insediati lungo le coste della goirlandia meridionale abbandonarono le loro terre nel XV secolo quindi tra il 1400 e il 1500 finora l'ipotesi maggiormente condivisa dagli studiosi sostiene che le popolazioni furono costrette a fuggire a causa delle temperature via via sempre più fredde dovute all'incombere della piccola era glaciale il freddo quindi avrebbe impedito alle colonie di ottenere sufficienti raccolti per il sostentamento adesso una ricerca guidata dall'università del massachusetts a merst a merst è pubblicata su science advance è inutile che vi dica che il massachusetts si trova negli stati uniti penso che lo sappiate ribalta totalmente questa vecchia ipotesi i vichinghi norvegesi scapparono a causa della siccità quando i vichinghi si stabilirono in groenlandia ripulirono la terra dagli arbusti incrementando lo sviluppo dei grandi pascoli per il loro bestiame fu così che riuscirono a trovare un equilibrio con l'ambiente tant'è che nell'area orientale dell'isola si insediarono permanentemente eppure 400 anni dopo ci fu un impoverimento della popolazione e un crollo demografico spiega il ricercatore Raymond Bradley prima del nostro studio i dati delle carote di ghiaccio utilizzate per ricostruire le temperature in groenlandia erano stati presi in siti che si trovavano oltre mille chilometri a nord e oltre 2000 metri e a oltre 2000 metri di altitudine erano pertanto poco rappresentativi per studiare quel che avveniva sulle coste aggiunge il collega Boyan Zhao che non so se è il solito Zhao che leggo spesso o è un altro ma comunque non ha importanza invece il nostro studio ha detto Zhao durato tre anni si è svolto nel Lake 578 che era adiacente a un'esfattoria norvegese e i dati raccolti ci hanno permesso di ricostruire la storia del clima degli ultimi 2000 anni andiamo a vedere cosa hanno scoperto con il materiale a disposizione che ho detto prima i ricercatori americani hanno concentrato la loro attenzione su due elementi un lipide un lipide lipide penso che sia che permette di ricostruire la temperatura nel corso del tempo e il rivestimento ceroso che può essere indicatore della piovosità di una regione si trova sulle foglie delle piante e determina la velocità con cui gli arbusti crescono in rapporto all'evaporazione dell'acqua dalle foglie stesse sì però le foglie cadono tutti gli anni però mi fido dei ricercatori ricercatori in Groenlandia meridionale gli autori della ricerca americana estraggono carote messo tra virgolette per studiare il clima nei sedimenti lacustri del sito Lake 578 nella Groenlandia meridionale quello che abbiamo scoperto conclude Zhao è che la temperatura a quel tempo non è particolarmente cambiata nella Groenlandia meridionale ma è diventata costantemente più secca va detto infatti che i vichinghi dovevano svernare il bestiame con il foraggio immagazzinato durante l'estate e che anche durante un'annata sufficientemente piovosa scusate il bronco di riace arrivavano con così poco fieno al termine dell'inverno che gli animali erano estremamente deboli ed erano portati sui campi quando la neve si stava sciogliendo prolungate siccità quindi avrebbero alterato l'equilibrio quel tanto che bastava per rendere insostenibile l'insediamento dei vichinghi e secondo gli autori dello studio questi dati non solo riscrivono una pagina di storia dell'uomo ma anche l'andamento del clima di quel periodo ecco a me viene in mente le persone che lavorano nella contesa bella dove c'è il dottor Paul che penso conosciate tutti scusate l'occhietto e sapete benissimo che durante l'estate raccolgono il fieno lo mettono da parte se no vanno a prenderlo poi ogni tanto arriva il dottor Paul vede com'è il fieno vede che magari gli animali hanno delle defezioni o che cosa gli dice perché il fieno è umido c'è questo batterio all'interno del fieno dovete fare così dovete fare cosa aggiungici il bicarbonato aggiungici questo aggiungici quell'altro per renderlo un attimino più meno pericoloso per gli animali che possono digerirlo meglio o cose simili quindi devono immagazzinarlo prima perché poi quando arriva all'inverno gli animali devono stare belli tranquilli nella loro e poi devono stare lì pulire la cosa eccetera eccetera spostarli adesso perché l'animale scagazza e quindi ogni tanto devono pulire poi magari immagazzinano la cacca della mucca che serve comunque come come fertilizzante no ma dai vichinghi e dagli animali da pascolo andiamo a parlare dei piccioncini che hanno fatto coming out Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra erano fidanzati anche prima che l'attore decisesse di fare coming out i due tra l'altro non si sono mai nascosti anzi si sono sempre mostrati in pubblico con gli amici e in vacanza l'amore non ha sesso non conosce età e non ha limiti Gabriele e Lorenzo ne sono l'esatta conferma e non vi è sentimento più bello e genuino del loro nulla da eccepire un anno fa il vincitore dell'unicesima edizione di X Factor ha fatto una dedica diretta televisiva al fidanzato che ha emozionato il pubblico Gabriele invece ospite da Serena Bortone ha parlato della sua storia ed è tornato a farlo sull'ultimo numero del settimanale chi? Gabriele Rossi e Lorenzo di Cifra uniti più che mai gli scrissi un messaggio da lì un caffè adesso conviviamo ha detto il buon Gabriele con Lorenzo sono tre anni che stiamo insieme non pochi vero che poi la convivenza è arrivata in concomitanza della pandemia diciamo che tre anni passati così è un po' come se fossero sei come ci siamo conosciuti? lo seguivo a X Factor Lorenzo Lorenzo visse l'edizione del 2017 ed gli scrissi un messaggio motivazionale a fine programma da lì un caffè poi un altro e il resto è storia adesso conviviamo non è un problema di per sé il vivere sotto lo stesso tetto ma il non essere allineati e disposti ad accettare i compromessi che la quotidianità può presentare sono le parole di Gabriele Rossi al settimanale Chi che parla del buon Lorenzo Licitra il suo compagno l'attore è diventato una celebrità grazie alla partecipazione a serie tv di successo come Tutti i pazzi per amore e Don Matteo ha poi risposto alla domanda su cosa ne pensa delle copie aperte dell'amore libero Gabriele si è limitato a rispondere che quel tipo di copia non fa per lui ma non solo l'attore ha anche aggiunto che sarebbe disposto a perdonare un tradimento massimo due e infatti ha spiegato copia aperta facile per narne quando si è dall'altra parte cioè quello che gli piace fare un po' il farfallon non condivido potrei perdonare e comprendere uno scivolone una volta due non di più quello che apprezzo però è che Lorenzo non è mai stato geloso del mio passato non credo e non avrebbe nemmeno potuto perché la nostra storia è nata in concomitanza della bufera metiatica tra me e Gabriele Garco se pensiamo al futuro siamo concentrati sul concetto del qui e ora e viviamo la bellezza del presente ad oggi dell'amore ho capito tutto e niente se non che non bisogna idealizzare nulla l'idealizzazione crea aspettativa e quando quelle verranno verranno meno inizierà la sofferenza come diceva un altro famoso attore scrittore che appunto era come loro Marcel Proust che diceva l'uomo ama idealizzare ma quando il sogno diventa realtà scatta l'indifferenza quindi mai idealizzare qualcuno perché poi magari ti rendi conto che l'hai idealizzato troppo ti delude e dici chi me l'ha fatto fa un po' come quando si conosce una bella donna uno diceva che bella oh che figona eccetera eccetera poi ci esce insieme ti prendi i maroni che fanno boing 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 quindi a parte il letto che è tutto bello tutto fantastico tutto stupendo poi ti rendi conto che c'hai la bambola ti porti addietro la bambolina che tutti ti invidiano ma ti rompi i testi per me è importante ragazzi miei le affinità elettive ragazzi io quando vedo le coppie che non hanno affinità elettiva mi cadono veramente i maroni tra l'altro quando non hanno affinità elettiva è solitamente lei rompe i testi perché magari a lui piace la moto il calcio l'automobilismo lo sci il basket quello che volete che a lei non piace a lei fa cagare e quindi gli rompe le balle ne è ancora molto di questo strazio che palle tutte le domeniche devi vedere ma mai conosciuto così lo sapevi no mi sembra come Abba Tantuono che quando quando in eccezionale veramente uno la Stefania Sandrelli gli chiede al Abba l'Abbatantono milanista ma tu ami di più me o il Milan è lui che gli dice ma che domande mi fai e c'è intanto sta sentendo la partita un momento un momento cioè a parte che una donna ti chiede a un uomo ami di più me una squadra di calcio indifferentemente da quella che sia è una domanda del cazzo scusate il francesismo perché sono due cose diverse come fai a essere gelosa di una squadra di calcio c'è un conto se uno seguisse le squadre di calcio perché si tromba le fidanzate dei calciatori e allora è un discorso e allora lì ti possono girare le palle se una ti dice ma preferisci me o la fidanzata di quel calciatore lì e allora lì è una domanda che se gli dici meglio ma una squadra di calcio sei gelosa che vado a letto con con Lautaro non penso cioè non mi passa neanche per l'anticamera del cervello quindi però una se conosce uno tifoso sa che cosa va incontro poi quando sento dire ma io lo cambierò o ma io l'amo ma guarda che quello è uno stronzo e ma io l'amo e io lo cambierò poi viene a piangere perché logicamente cambia un cazzo lui la spedisce perché tanto donne ce ne sono tante ricordalo come cantava il grande mal quindi ti cantava anche ma io non devo bruciarmi con una come te eccetera 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 ma passiamo ad altro ma ho voluto un attimino obbligare come dico di solito andiamo a parlare della del buon Tutankhamon scoperte prove inconfutabili del furto poi in ritardo direi 61 84 anni di ritardo però l'hanno scoperto il sospetto che Howard Carter che ricordo è morto ahimè ormai nel marzo del 1939 il 2 marzo 1939 quindi ormai comunque il sospetto che Howard Carter l'archeologo britannico che scoprì la tomba di Tutankhamon o Tutankhamen nel 1922 nel 1922 avesse rubato reperti dalla camera funeraria prima che fosse ufficialmente aperta è tornato sul tavolo oggi più pesante che mai a dimostrarlo è una lettera inedita datata 1934 il messaggio è stato scritto da Alan Gardiner un importante filologo che faceva parte della squadra di scavo e che ha ottenuto da Carter un amuleto il linguista però mostrò il gioiello Ares Angelbach l'allora direttore britannico del museo egizio del Cairo il quale rivelò che il pezzo era stato indubbiamente rubato dalla tomba di Tutankhamo poiché corrispondeva ad altri esemplari tutti realizzati con lo stesso stampo Gardiner aveva quindi inviato una lettera a Carter informandolo di aver appreso che l'amuleto era stato sottratto dal cavo lo scopritore della tomba di Tutankhamo rubò alcuni oggetti mi dispiace profondamente di essere stato immesso in una posizione così imbarazzante scrisse il filologo ovviamente non ho detto a Angelbach che ho avuto l'amuleto da te aggiunse Bob Breer autore del libro di prossima uscita che probabilmente sarà già anche uscito perché la notizia è dello scorso agosto ve lo ricordo Tutankhamon è la tomba che ha cambiato il mondo che include il testo completo della lettera ha indicato che attualmente non c'è dubbio che la camera funeraria fosse stata aperta da Carter prima delle autorità egiziane quindi avrebbe potuto rimuovere alcuni oggetti senza autorizzazione si sospetta che siano entrati nella tomba prima che fosse ufficialmente aperta rimuovendo oggetti inclusi gioietti ha detto Breer spiegando che alcuni egittologhi avevano contestato l'affermazione di Carter secondo cui i tesori della tomba erano stati saccheggiati in tempi antichi si sapeva che Carter aveva in qualche modo alcuni oggetti trafugati e molte persone sospettavano che avrebbe potuto trafugarli e questa lettera è una prova inconfutabile ha concluso lo scienziato comunque ragasoli sinceramente questo pover uomo che ha scoperto comunque ha fatto una delle scoperte del secolo insieme alla stele di Rosetta che ci permese di tradurre le parole egiziane grazie alla stele di Rosetta che aveva la doppia traduzione no? è morto nel 1939 venire a dirmi adesso nel 2022 barra 2023 che se trafugato qualche oggettino dalla tomba di Tutankhamon a che pro serve non c'è più cosa fai magari è in paradiso gli arriva magari non gli arriva il messaggio perché nostro signore lo sa già se c'è quindi quando lui arriva in paradiso San Pietro gli fa lei ha rubato lei è un ladro quindi siccome è un ladro se il sesto o il settimo comanda quello che è e non mi ricordo mai se il sesto aspettate che vado a controllare se il sesto o il settimo comandamento non rubare allora comandamento andiamo a controllare i dieci comandamenti perché non mi ricordo mai se il sesto o il settimo allora poof poof andiamo a vedere no perché io mi confondo sempre il sesto col sei non mi ricordo mai allora uno due perché non me li fanno più semplici invece di farmeli tutti così incasinati porca miseria allora allora poi adesso c'è anche la differenza tra quelli della chiesa e quelli della bibbia mamma mia per farci impazzire impazzisco perché già mi fa impazzire l'inter mi devono fare impazzire anche loro vabbè andiamo a vedere quelli della bibbia che mi piacciono di più il sette no l'otto l'hanno messo all'ottavo posto al sestimo non commettere adulterio e fermiamoci all'adulterio perché se ci metti i dati impuri finiamo tutti all'inferno e siamo fottuti quindi non rubare è l'ottavo lei ha l'ottavo comandamento per esempio gli giuventini sono già condannati tutti poracci anche se fanno una vita esemplare già il fatto di tifare per quella squadra lì cent'anni di purgatorio non glieli toglie nessuno purtroppo gli interisti no hanno cent'anni di bonus quindi magari quando arrivano su fanno lei allora ha fatto questo questo e quest'altro sono duecento anni di purgatorio però essendo interista sono solo cento arriva sullo giuventino fa lei duecento però a giuventino sono trecento mi spiace o cambiate squadra o vi fate cent'anni di purgatorio in più così imparate a tifare la squadra sbagliata vabbè a parte gli scherzi il buon Carter mi sa che si dovrà fare spero che l'abbiamo mandato in purgatorio e non all'inferno poi magari sono passati già un po' di annetti da quando è morto e magari tra poco raggiungerà il paradiso dopo aver espiato nel purgatorio le sue colpe per aver trafugato dei pezzettini dalla cosa di Tutankamo noi non sapremo mai o meglio non sapremo quando sarà il momento come diceva il nostro professore non preoccuparti della morte finché sei viduo quando sarà il momento ti preoccuperai della cosa ma preoccuparsene prima è un po' come quelli che iniziano una storia d'amore e cominciano a dire tanto mi lascia e la vivono male goditela finisce basta morto un papa se ne fa in alto ma è da tanto godete se tu devi stare lì con l'ansia oh Dio mi lascia oh Dio mi lascia oh Dio mi lascia oh Dio mi lascia la vivi male e non la vivi bene cosa ho fatto io per avere una donna così bella chissà quanto staremo insieme perché ma goditela magari dura tutta la vita comunque niente mi sono dilungato troppo ma ogni tanto sapete mi piace obbliare come diceva il buon Arturo Coimba della Coroniglia quando dovevo firmare l'assegno ci deve dare un milione e mezzo di dollari a testa su firmi l'assegno obbliavo bei tempi quando c'erano i film no bei tempi no perché non avevamo tutte queste libidini ve l'ho detto io avrei voluto vivere negli anni 80 con queste libidini volevo vedere come le avremmo utilizzate se le avremmo utilizzate come le stanno utilizzando adesso i ragazzi di oggi cioè male o se le avremmo utilizzate per facilitarci il nostro tempo libero nel senso anziché stare a girare per tutta il quartiere a citofonare a tutti gli amici per andare a giocare a pallone soprattutto d'inverno quando alle 5 era già buio che tu uscivi di casa alle 2 e mezza 3 ora che facevi il giro di citofonare a tutti invece col gruppettino whatsapp whatsapp gruppo amici calcio dove ci vediamo oggi tu 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 e uno si organizzava oratorio montestella o altro campo e ci si trovava già là all'ora giusta compito in classe niente il coso delle ricerche andavi su santa wikipedia facevi copia e incolla cambiavi 4 parole pronta alla ricerca due foto stampate in bianco e nero da appiccicarci sopra e avevi perso un quarto d'ora e te lo arrivavi dai coglioni invece devo perdere due ore a scrivere quella cazzo di ricerca di merda dal coso che era un trafiletto che era grande così ma le parole erano talmente piccole che alla fine facevi tre facciate in più c'era a mia mammetta che era lì non vorrei mica copiare e basta aggiungici qualcosa se no la maestra si accorge che è solo copiato poi fate tutti uguali e non va bene quindi mettici qualcosa anche di tuo quindi dovevo aggiungere anche qualcosa di mio il mio pensiero o quello che era e alla fine io ho perso un'ora e mezza e non potevo andare a giocare a pallone con gli amici perché ho perso un'ora e mezza a fare quella cazzo di ricerca di merda che con una stampante eccetera eccetera la preparavo prima e non dovevo stare a impazzire perché poi dopo magari avevamo anche l'enciclopedia vai a vedere sull'enciclopedia che magari c'è scritto qualcosa in più e perdi tempo anche con l'enciclopedia e poi scrivi infatti mi è venuto anche il callino qua quello scrittore a furia di scrivere va bene ragazzoli chiedo venia mi sono dilungato troppo ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao